e ottiene in questo momento la standing ovation da parte della tifoseria di Tejano che applaude la squadra di Mr. Vastola. L'SD Valdiano davanti ad oltre mille spettatori supera meritatamente il San Cipriano temerario e stacca il pass per la finale dei play-off che mette in palio un posto nel prossimo torneo di eccellenza. Un match ad alta tensione che ha visto la squadra di Vastola in tribuna per squalifica imprimere un ritmo elevato nei minuti iniziali quando ha creato un paio di occasioni insidiose ma il San Cipriano ha provato a rispondere con Iacovazzo imbeccato da Abate il quale poi ci ha provato su un calcio di punizione. La risposta di Serra è stata impeccabile. La svolta al minuto 27 Abate viene espulso per un fallo su Farano. La gara è tesa e il San Cipriano resta addirittura in nove di Giacomo Giammonito in cappa nel secondo giallo lasciando i suoi in nove. Un minuto dopo Santucci mette la sua griffa pesante realizzando con la sua specialità nei calci da fermo. Il tempo si chiude tra molta tensione. Nella ripresa l'SD Valdiano prova a chiudere i conti con Moree il quale inizia una sfida personale con Miano. L'estremo picentino dice no in altre due circostanze al 23esimo e al 46esimo ma poi deve cedere al terzo minuto di recupero quando il bomber pugliese realizza la rete che mette il sigillo al match regalando la finale all'SD Valdiano. Per la cronaca la formazione di casa è rimasta in dieci al decimo della ripresa per l'espulsione di Onnembo. Si torna in campo domenica 26 e lo scenario sarà sempre il vertucci di Teggiano per una sfida per certi versi storica per la storia calcistica del centro della città della principessa Costanza. Oggi è ottenuta un'altra vittoria, un passo ancora in avanti verso il sogno eccellenza. È una vittoria piuttosto sofferta devo dire, una partita dove non si è visto il bel gioco il bel gioco non si è visto perché è stata una partita nervosa è comprensibile il nervosismo perché giustamente queste partite contano assai il risultato per cui i ragazzi erano nervosi, non hanno sviluppato un bel gioco però alla fine quella che conta è il risultato, noi abbiamo vinto. E la seconda vittoria ce ne manca una per raggiungere la vetta. Tirando le somme oggi posso dire che è un grandissimo campionato i ragazzi veramente ce l'hanno messa tutta, hanno dato il meglio di loro stessi forse meritavamo già prima di vincere questo campionato perdonatemi se dico questo però sinceramente più vedo questa squadra più vedo quanta passione mettono nel gioco più mi convinco che meritavamo già prima di vincere il campionato quindi sono abbastanza fiducioso anche nel prossimo incontro che ancora non so con chi sarà fatto quindi faccio gli auguri ai ragazzi, alla diffuseria che è tanta e numerosa ho visto tantissima gente, tantissimo pubblico è una cosa bellissima per Teggiano e per tutto il Vallo del Viano Abbiamo parlato in telecronaca anche con Gerardo Lobosco sulla condizione del campo di Teggiano un eventuale salto appunto a questo punto sognato in eccellenza e volevo sapere la sua opinione per quanto riguarda appunto il fattore campo e se per l'anno prossimo saranno presi i provvedimenti da parte dell'amministrazione per dare un salto anche di qualità al campo sportivo di Teggiano Purtroppo questa è una risposta alla quale non posso dire la mia in quanto è una cosa che a me non compete chiaramente questo è un giusto appello che va allangiato all'amministrazione comunale la quale se non vado errando e qualche amministratore precedentemente si è preso l'impegno che in caso di vittoria, in caso di un traguardo nel caso in cui passassimo in eccellenza il campo verrebbe fatto mi auguro di sì anche perché insomma in condizioni pietose chiaramente è una cosa non tanto bella per Teggiano, per il Vallo anche perché vedo, mi guardo intorno e ci sono tanti tanti campi sportivi presso altri paesi dove sono stati fatti dei lavori eccezionali sono stati resi presentabili e quant'altro quindi penso che anche a Teggiano qualche cosa deve essere fatta pure per dare un lustro a questo paese che merita Mister Luigi Vastola non presente sul terreno di gioco ma presente sugli Sparti, il primo dei tifosi della squadra di Sidi Valdiano e soddisfazione per questo passaggio al turno successivo dei play-off? Ma dopo tanta pressione, dopo tanta tensione sicuramente la cosa positiva la cosa più importante è questa proprio, come hai detto tu l'accesso nella finale regionale che vale poi l'accesso alla categoria superiore sapevamo che era una gara ostica, una gara nervosa soprattutto l'abbiamo anche preparata in un certo modo cercando di andare subito in affondo nel primo tempo, abbiamo creato diverse occasioni nel primo tempo poi la tensione e la pressione hanno fatto sì che si accendessero un po' gli animi in campo da parte di tutte e due, anche se penso sia stata molto bene diretta dall'arbitro questa gara Abbiamo visto chiaramente le due espulsioni che hanno pesato sul rendimento della squadra del San Cipriano ma anche l'espulsione di Onnembo che salterà il prossimo turno e si aggiunge alla lista degli squalificati, ricordo Costanzo che salterà appunto ha detto già addio ai play-off Ma in effetti è proprio questo, quando ci sono queste gare l'effetto mentale, l'effetto proprio di lucidità, la concentrazione deve essere tale in modo da che non si abbiano queste cose negative che poi vanno a inficiare nel proseguo delle partite seguenti però questo fa parte del calcio, accettiamo comunque la decisione del direttore anche se penso che la seconda omissione era inesistente però tutto sommato va bene così e cerchiamo di preparare al meglio la gara per domenica prossima Cosa vorrebbe dire al pubblico presente oggi sugli spalti che è sempre più numeroso ho già dato davvero testimonianze di un affiancamento, un affiatamento con i benemini Ma questa è una cosa positiva, la cosa più importante di quest'anno cerchiamo di fare sempre un lavoro in modo che si abbiano sempre dei risultati cercare poi di trasmettere a tutti quanti, all'ambiente, alla società, ai giocatori che il calcio è bello anche per questo perché un conto è venire ad allenarsi, un conto è venire a giocare e magari ci sono 10-20 persone sparute così è un conto che poi ci sia un pubblico come oggi che fa onore allo sport anche ai sacrifici di questa società che sta cercando di portare un po' ovunque il proprio nome il nome della propria città e penso che sia questo l'obiettivo più importante della società Siamo con mister Spirineo, allenatore della squadra del San Cipriano Temerale mister, oggi una sconfitta esterna nella seconda giornata dei play-off contro la SD Valdiano risultato finale di 1-0 che premia la squadra di mister Vassola in una partita condizionata per la sua squadra da due espulsioni Sì è vero, è stata condizionata da due espulsioni però onore al Valdiano che l'ho sempre detto anche sulle testate dei giornali che secondo me era la squadra più forte del girone noi siamo qui che abbiamo preparato bene la partita però ci sono stati questi due episodi dove con il nostro errore ha condizionato tutta la partita e non siamo stati bravi a continuare a fare la partita nostra Ha inciso forse il nervosismo del primo tempo abbiamo visto anche una tifoseria molto agguerrita quella del San Cipriano ha corsa però numerosa qui a Teggiano a seguire la propria formazione Sì perché è stata una favola quest'anno io sto a San Cipriano da tre anni, questo è il terzo anno abbiamo vinto due campioni di fila e è stata una favola quest'anno dovevamo mantenere la categoria invece ci siamo trovati a fare la finale dei playoff del girone la tifoseria era numerosa, erano gasati noi continuiamo questa favola la tensione, ecco questa è l'inesperienza di una squadra che deve crescere per andare avanti Il futuro del San Cipriano temeraria dopo la fusione dell'anno scorso tra la squadra di San Mango e il San Cipriano? Sì, il futuro io non lo so, io già un mese fa ho detto alla società che dopo tre anni, dopo il mio triennio, davo le dimissioni e andavo via anche perché ho avuto delle chiamate, devo valutare la situazione io per adesso ho finito, ho chiuso il triennio nel San Cipriano temeraria Grazie! Grazie!